Si alzi il sipario, ci siamo. Domani sera con il concerto di Fiorella Mannoia si apre la nuova stagione del teatro Carlo Gesualdo di Avellino. C'è grande attesa per la cantautrice romana che replicherà il suo spettacolo domenica alle ore 18. La Mannoia continua il personal tour che dopo le tante date estivi all'aperto cambia cornice e prosegue nei teatri di tutta Italia. È l'occasione per ascoltare dal vivo tutti i maggiori successi dell'artista e il suo ultimo album di inediti, personale, composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull'umanità, sulla vita e sui sentimenti in tutte le loro sfaccettature. Non mancheranno le canzoni che hanno costellato la sua eccezionale carriera dai treni a vapore a cielo d'Irlanda da combattente a quello che le donne non dicono. Oltre ad alcune cover come Selli di Vasco Rossi o Panama di Ivano Fossati, la Mannoia del Via è una stagione che si annuncia ricca di novità e di appuntamenti imperdibili per il pubblico avellinesi e campano. È stato intanto rinviato a dicembre lo spettacolo con tutto il cuore di Vincenzo Salemme, la commedia del popolare attore napoletano prevista in un primo momento a fine mese, è infatti slittata al 26 dicembre alle ore 18 e il 27 alle ore 21. Ricco il cartellone del buon umore che prevede anche le performance di Alessandro Siani con il suo Felicità Tour, Lello Arena con Miserie e Nobiltà di Scarpetta, Carlo Bucci Rosso con la divertente commedia La Rottamazione di un uomo per bene e ancora Massimo Lopez e Tullio Solenghi. completano il cartellone Tradizione e Comicità, la cantata dei pastori di Beppe Barra e le performance di Biagio Izzo e Ale Franz. In calendario anche la commedia dimagrante interpretata da quattro donne quali Rossella Sbrescia, Tosca Daquino, Roberta Lanfranchi e Samuele Sardo.